Ciao a tutti ragazzi Benvenuti su Evade E oggi Vi faccio vedere come gioco da telefono Perché si gioco meglio da computer Però fregatevele Ora Compro qualcosa Perché sono diventata Davvero povera Adesso ne ho 16 Bombe, si Questi 14 Tengo, questi dai un po' di più 19 Va bene Busso che dovrebbe fare Ah Ok Vabbè A questo punto Giochiamo Ma perché È il club degli spigati Veramente quello Volevo dire Aiutatemi 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 Pentola d'oro L'avevo presa Oh Dammi Dammi Pentola Ok Ok Era la prima volta Che vedevo la pentola Dai Beh Vado nelle backrooms Sai cosa? Ah Ho messo il microfono in bocca Ok Scusate Dai Andate nelle backrooms Per favore Ok Ci sono oggi Stato me stessa E adesso Andiamo da qualche parte Vabbè Vabbè Prima dovevate Vedermi Ma proprio Quando mi si avvicinava Un nextbot C'era tipo Lo scher Un nextbot C'era tipo Lo schermo E faccia Così Vabbè Io mi tengo In pov Così Oh ma Mi è sprecato Così tanto tempo No 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 Fammi schiappare Posso uscire Apriti Sedano Come uscire There's nothing we can do E c'è E c'è Credo Ah Aspetta fammi Fammi prendere qualcosa Aspetta fammi Li Ad L C'è L C'è un WTF? Ci siamo Il mio amico Vabbè aspettiamo il prossimo livello Ok ci siamo Eravamo morti tutti quindi Abbiamo schippato A me andare A me andare Ciao Apriti sedano E chiuditi sedano Ciao a tutti E bentornati nel mio video Penso che forse Mi metterei in un angolino E Tra l'altro ti immagini Giocare quasi tutto evade Per andare in un next bot Piantare Perché per tipo Difenderti Fermati Ok Posso mettere un teleesporto Ciao a tutti Grazie. Grazie. Fa male il naso. Grazie. 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 Ok, voglio mangiarmelo io. Ho fame. Che ore sono? Le 16. Allora è ora di merenda. Se volete, io mi fermo qui un attimo e poi torno dopo, ok? Se volete. Se no, niente. Morite a quel paese. Dai, l'ultima partita. Posso mangiarmi tutto qua. No. Posso... usare... il barriero. Faccio com'è prima, ok? Faccio com'è prima, ok? Faccio com'è prima. Faccio com'è prima. Faccio com'è prima. Se arriva un Xbox. Uso questo. E se riesco in tempo, bevo la cola. Ok. Ok. Controlli il stracone. Ah, c'è il treno. Ah, c'è il treno. Chino, pet? Chino, pet? Chino, pet? Mi hai già parlato. Ah... No! Ok, vedete, diventa più veloce. Ne... è usabile. Cioè, quello lì è utile Vabbè, anche usabile Ok, non sono più in pericolo qua Cioè, allora, se vado a vedere Che cosa ha fatto quell'infame Che ero letteralmente Da quella parte lì Voglio tornare a vedere cosa ha fatto l'infame Tenno in Xbox Quello là, sul ponte Tra l'altro adesso Voglio andare a visitare Nooo, sono bloccata Forse Vabbè, mi tengo sempre sul Qua, bloc Ok, ok Questa è sopravvissuta Adesso vado fuori e mi rendo Ciao Grazie a tutti